Vediamo tanti cittadini e gli attivisti del Comitato Acquabene Comune che iniziano i lavori per piantare le piante. Noi continueremo a vedere le nostre valli e questo è un primo messaggio col sorriso in bocca, col sorriso, questo sia chiaro a tutti, che però troveranno comunità in tutte le valli del Bellunese molto determinate per fermare opere che nessuno vuole. Noi siamo per la democrazia e per la democrazia dei territori e chiunque abbia intenzione di forzare questa cosa dovrà fare i conti con chi non ha nessuna intenzione di arretrare rispetto alla difesa di questo territorio che è il nostro territorio. Se qualcuno ha un picco in macchina comunque è il momento giusto per girarlo fuori. Se qualcuno sa guidare una rupa...